Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. La tragica scomparsa di Giulia Cecchettina ha lasciato un paese intero immerso nel dolore, evidenziando ancora una volta la dolorosa realtà di una donna vittima della violenza maschile. La nonna paterna di Giulia, Carla Gatto, ha condiviso ricordi affettuosi della nipote, sottolineando alcuni tratti distintivi del suo carattere e episodi significativi che hanno preceduto il suo tragico destino. Carla ha raccontato di quando Giulia le aveva confidato di aver lasciato il suo fidanzato, Filippo, noto come Pippo, per la sua eccessiva possessività. Giulia aveva già delineato il proprio futuro. Dopo aver completato la laurea triennale, si era iscritta a un corso per diventare illustratrice di libri. Non era preoccupata per la sua tesi o per l'ex fidanzato, ma piuttosto provava pena per chi non accettava la fine della loro relazione, motivo per cui non aveva interrotto completamente i contatti con lui. La nonna ha anche ricordato quando Giulia le disse di aver lasciato Filippo a causa del suo comportamento troppo possessivo. Carla aveva approvato la decisione, ma Filippo continuava a insistere. A volte, chiedeva a Giulia di accompagnarlo a fare acquisti e lei, forse sentendosi in colpa, non riusciva a rifiutare, cercando di convincerlo ad accettare la realtà. Adesso, la famiglia di Giulia vive un momento di profondo dolore, mentre le formalità e le indagini proseguono nel loro corso.